Buonasera a tutti, ecco a voi la prima parte della mia ghinastica postulare. Vi mostrerò tre esercizi. Il primo è questo. Gamba destra in alto e mano stesa così, e mano in alto stesa così, autoerongazione, altro piede così, ecco qui. Ecco qui. Ok, passiamo al secondo esercizio. Il secondo esercizio è questo. Si tratta di mettere la schiena così. In modo tale da premere sulla colonna vertebrale. Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. Come si fa. Questo è il secondo esercizio della ghinastica postulare. Cosa. Cosa. L'esercizio è questo. Esercizio è questo. male. Questo è il secondo esercizio di braccia così. E andare fino all'indietro e poi ritornare sul punto di partenza. ecco qui ecco qui il terzo ed ultimo esercizio della prima parte ecco il terzo esercizio della prima parte della dinastica postulare poi gli altri ve li mostro un altro giorno ok abbiamo finito al prossimo video della dinastica postulare ciao ciao